Edizione 2013 del Summer Jamborì, prima delle novità facciamo due parole su questo grande festival. Allora, 14esima edizione, già insomma 14esima di Ladice Lunga, quest'anno ancora di più coinvolgimento, abbiamo visto qui in conferenza stampa anche della regione, che è uscita con un bellissimo spot dedicato al territorio e al Summer Jamborì ovviamente, è veramente un trofeo per noi questo, proprio un bel riconoscimento. Il sindaco tra l'altro l'ha annunciato con orgoglio come la manifestazione più importante della regione Marche, altra bellissima medaglia da tenere con noi. E quest'anno appunto 14esima edizione, il format più o meno si ripete nel senso che ci sono sempre delle novità, quindi nuovi artisti, anche nuove location quest'anno. E l'artista di punta è Duan Eddy, considerato uno dei grandi assieme a Chuck Berry, Elvis, Jerry Lee Lewis, insomma la sua canzone più importante la sentiamo anche nella colonna sonora di Forrest Gump. E poi tantissimi artisti anche dei giorni nostri, uno su tutti Dick Dickerson, diciamo se Duan Eddy è il grande chitarrista del passato, Dick Dickerson è il grande chitarrista del presente. E poi tantissime novità, i generi che toccheremo come sempre saranno lo swing, il rock'n'roll, il do-up, il jive, comunque in generale tutti i generi musicali degli anni 40 e 50. Non dimentichiamo che il claim del San Bergià Morì rimane sempre quello, ovvero la musica e la cultura dell'America degli anni 40 e 50. E quello sarà sicuramente anche quest'anno.